Oggi puoi pulire a fondo tapeti, moquette e pavimenti senza muovere un dito. Il robot aspirapolvere iRobot Roomba elimina infatti sporco, polvere, pollini, allergeni e peli d'animale in totale autonomia, al solo tocco di un tasto. Sono già milioni i robot Roomba venduti nel mondo. Il potente sistema di aspirazione di Roomba pulisce a fondo tappeti, moquette, parquet, piastrelle, linoleum e mentre il robot gira per casa si adegua automaticamente alle diverse superfici. Il sistema brevettato di pulizia in tre fasi consente una pulizia completa. La spazzola rotante laterale pulisce innanzitutto lungo gli spigoli, quindi due ulteriori spazzole a rotazione inversa raccolgono sporco, peli e residui. Infine entra in azione il potente sistema di aspirazione, mentre il filtro blocca la polvere e altre particelle fini. Roomba pulisce anche sotto il letto e in altri punti difficili da raggiungere. Diversamente dagli aspiratori verticali tradizionali, Roomba opera in spazi stretti e sia sotto che intorno ai mobili. In più, utilizza una tecnologia di movimento a parete, lungo muri e battiscopa, assicurando la pulizia dell'intero pavimento. Roomba ottimizza la sua azione adattandosi allo specifico ambiente della casa. La tecnologia iAdapt, infatti, verifica l'ambiente più di 60 volte al secondo, mediante una serie di sensori e decine di modalità di comportamento diverse. Il sistema Paracolpi Soft Touch di Roomba ammortizza ogni eventuale urto tra il robot e gli oggetti durante la pulizia, proteggendo così da graffi e segni le pareti, i mobili e altri ostacoli. I due filtri HEPA catturano le particelle sottili di polvere, riducendone al minimo la ricircolazione. E i due cassetti Aerovac raccolgono e trattengono grandi quantità di peli, lanugine e altri residui, evitando la necessità di svuotamenti frequenti. Grazie al sistema avanzato Dirt Detect, con sensori ottici ed acustici, Roomba scova facilmente sporco e residui, pulendo in modo più profondo le zone del pavimento che ne hanno più bisogno. La tecnologia di passaggi multipli determina un movimento avanti e indietro del robot per pulire a fondo anche le zone più sporche. E per lo sporco concentrato in piccole aree, la modalità Spot di Roomba consente di eliminarlo rapidamente. Roomba utilizza sensori per evitare le scale durante la pulizia e poi pulisce quando fa comodo a te. Può essere infatti programmato fino a sette diverse sessioni di pulizia la settimana, anche quando non sei presente. Roomba è sempre carico e pronto a funzionare. Torna infatti automaticamente alla sua base di ricarica tra una pulizia e l'altra. E con il pratico telecomando lo si può accendere e spegnere ed effettuare pulizie normali o concentrate guidandolo da remoto in giro per la stanza. Con Roomba nulla è lasciato al caso. Quando il cassetto è pieno, infatti, si accende un'apposita spia luminosa che segnala la necessità di svuotamento. Roomba è facilissimo da usare. Il touchpad e l'interfaccia intuitiva eliminano i pulsanti meccanici e ti consentono di programmare e comandare il robot con un semplice tocco. Roomba pulisce più stanze in modo sistematico e completo. Gli speciali Virtual Wall Lighthouse, infatti, fanno sì che il robot pulisca completamente l'intero ambiente prima di procedere in un altro. Il robot aspirapolvere iRobot Roomba pulisce da sé tappeti, mochette e pavimenti. Così non devi farlo tu. Tocca un tasto e lascia che sia Roomba ad occuparsi del lavoro sporco.